Ivan Zayza e Baccaldo, i sentimenti dopo una partita così lunga, così strana anche per l'andamento dei set? Beh, alla fine tanto strana non è stata perché abbiamo avuto qualche problemino per rientrare in ritmo partita nei primi due set e loro ci hanno messo sotto appunto nei finali dei primi parziali e siamo riusciti a condurre la partita inizialmente fino al 20 poi ci siamo persi con qualche errorino, però poi siamo riusciti a reagire, a portare la partita a Tebrek, a sfiorare la vittoria poi siamo riusciti a chiuderla con due bombe in battuta, comunque loro come noi sono una squadra molto fisica quindi credo che si sia vista anche un po' di pallonate stasera in campo. Cosa c'è da imparare da una partita come questa? Beh, da imparare è il fatto che quando si stacca la testa e ci si riposa inevitabilmente si incorre in un gioco che non è quello solito non puoi sperare di giocare come abbiamo chiuso l'anno Solare 2013, quindi adesso ci rimbocchiamo le mani che sappiamo su cosa lavorare e cosa ci manca e anche in vista delle partite di Champions contro di loro. Un avversario comunque all'altezza delle aspettative? Assolutamente sì, credo che anche loro siano stati arrugginiti come noi magari in qualche cosa e quindi ci si aspetta un livello sempre crescente nelle partite che andremo a giocare contro. E in Coppa Italia arriva Cuneo? In Coppa Italia arriva Cuneo e quindi al momento sinceramente io non ci stavo pensando quindi ci penseremo più avanti e vediamo cosa ne verrà fuori. Gennaio tosto Gennaio tosto, speriamo che anche febbraio lo sarà altrettanto. Ciao, grazie.